Un quadro inquietante nel giorno di Natale era, ed è giusto darlo, Rosario Trefiletti, ma questa situazione così sconquassata di chi è colpa? Del governo che non risolve le cose, delle aziende che non sanno operare sul territorio, del combinato disposto di questi due fattori, di un paese politicamente incartato? Insomma, sono tutte motivazioni molto corrette e molto giuste quello che lei sta facendo, Rigoni. Ci sono vari componenti che portano a questo disastro, perché francamente perché lo definisco un disastro anche se io mi auguro che ci sia uno scatto di reni, una ripresa veramente molto determinata per superare questa problematica? Ecco, lo considero un disastro perché bisogna accoppiarlo con altri dati che sono assolutamente pessimistici. Quando si legge che la produzione industriale del nostro paese è scesa del 2,4%, quando ancora abbiamo un 9,7% di disoccupazione, quando ante crisi eravamo attorno a un 6%. E' chiaro e evidente che tutto ciò aggrava la situazione, ecco perché io ritengo che bisogna fare una politica fortissima di investimenti. Politica fortissima di investimenti.